Vabbè ragazzi, facciamo i complimenti a Gattuso per aver vinto questa partita fondamentale, per aver fatto entrare in campo tutti i titolari, averli fatti giocare a 110 all'ora e aver fatto sì che si rompesse in signe, perché almeno non ce l'avete con il Barcellona. Vabbè, bravo Gattuso, vai, prenditi sti tre punti fondamentali per questa stagione, andate a Barcellona, non mi ricordo se in casa o fuori casa, andate a giocare allo Barcellona senza in signe, va bene così, ma se siete felici voi. Vabbè, niente, partita un po' del cavolo, nel senso, fine primo tempo 1-1, ok, poi quel rigore che, boh, non lo so, vabbè, non mi va manco di commentarlo, quel rigore, dite a me poi nei commenti, e niente, poi vabbè, il 3-1 lo prendi perché Inzaghi ha deciso che i cambi, che a una certa, alla partita non gliene fregava più, perché tu potevi arriva a terzo perché l'Atalanta stava per lei, non ti sembrava, ti serviva. Cioè, ti bastava un semplice pareggio, tu mi fai i cambi, mi fai entrare, no, mi fai uscire Correa e Parolo, mi fai entrare a De Cani, io capisco la voglia di farmi entrare a De Cani, ma se mi vuoi far entrare a De Cani e non mi fai uscire Correa, perché tu la partita, cioè, la partita, se finisce 2-1 o 3-1 o 4-1, non te ne frega niente, perché tanto l'hai persa comunque, quindi se tu mi fai entrare a De Cani e mi levi Correa, il senso dove sta, non ci sta. Semplicemente non ci sta il senso, quindi se tu mi metti a De Cani e mi levi qualcun altro, non mi levi Correa. Poi la scelta logica di mettere dentro Ander Anderson, che oltre ad aver lasciato solo Politano nel gol del 3-1, tutte le volte che è entrato in campo a giocare questa stagione ha fatto pena, quindi io giustamente lo faccio mentare, perché appunto ha una certezza che ha deciso che non gliene fregava più niente, infatti i cambi, non abbiamo più toccato un pallone, abbiamo preso il 3-1, ma vabbè. E vabbè, siamo comunque quarti, cioè quell'eventualità del Napoli che vince la Champions e la Roma che vince l'Europa League che non si avvererà mai la vita, quindi non è quello, però mi sarebbe piaciuto comunque arrivare terzo dopo tutta stagione, però va bene così, cioè scialla un po' a merode, ma ok, va bene. Non parliamo di Calvarese perché non penso che c'era anche bisogno, cioè Manolas poteva essere espulso 84 volte, manco un giallo in tutta la partita, ha preso, ma va benissimo così, va benissimo così, prima proprio, gli piaceva proprio dare cazzotti, gomitate, spinte proprio con tutta l'amore del... vabbè, Calvarese è sempre quello, Calvarese è sempre Calvarese e niente. E non so se devo aggiungere qualcos'altro, sinceramente non lo so, ricabbo, ditemi voi nei commenti, fatemi sapere. Ragazzi, cioè scusate, mi stavo dimenticando di fare i complimenti a Ciro Immobile che ha aggiunto il record, ha fatto 36 gol come Iguain, e mi è dispiaciuto perché comunque l'ha fatta al ventesimo, quindi poteva tranquillamente farne un'altra, però poi il secondo tempo non è stato dei migliori, insomma. E quindi niente, però comunque il record l'ha raggiunto e quindi grande Ciro, Daie, Scarpa d'Oro, Forza Lazio!